Ciao a tutti ragazzi, sono Magicly e oggi faremo un gioco di magia. Oggi useremo un mazzo Grimmanx. La qualità è ottima e il design è bellissimo. Bene, iniziamo col gioco. Siccome non ho spettatore, ci vedo la carta passissima del mazzo, diventa questa, ma proprio ricordatelo, lo andiamo così a dispergere il mazzo. Andiamo a tagliare, a miscolare, a tagliare ancora. Quindi la vostra carta non è né in cima né in fondo, non è né il 9 di quadri, né il 7 di fiori. Quindi non è né la prima carta né l'ultima. Se noi diamo un taglio, un giusto magico, tutto il mazzo, la faccia in su, tra una sola carta, che non è una carta pazzesca, non è proprio 10 di fiori. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, fatelo sapere con un like, con un commento, passate la mia pagina Facebook, Magikly, iscrivetevi al mio canale Magikly. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!